Questo è un Mark, Y-Generation, 4K Sto con la tua tipa sul divano, yeah, 4K Le guardie arrivano, yeah, 4K Le mi dice non mi cercare, yeah, 4K Ma io penso solo a fatturare, yeah, 4K La mia tipa guarda Netflix sul divano, yeah Poi i nostri colpi si amalgamano Lei arriva e gli faccio il baciamano Faccio foto, 4K Mentre sul cazzo mi si aggrappa A una certa mi si strappa, lo ritrovo con la mappa Mi dice non sono il suo tipo Ma i soldi io anticipo Come un fiume io straripo Ma cazzo non sei il mio tipo Allora sai che ti dico? Sto con la sua tipa sul divano, yeah, 4K Le guardie arrivano, yeah, 4K Le mi dice non mi cercare, yeah, 4K Ma io penso solo a fatturare, yeah, 4K Sono un tipo strano, c'ho il cuore di pietra Sono un paio di mesi che se n'è andata Amico non puoi capire, me l'ero già ridata Poi è andata in un cup e l'hanno bombardata Ne è arrivata un'altra Il tempo di dire ti amo e se n'è andata Ridente città di mare ma gli piace solo l'anale Sto con la sua tipa sul divano, yeah, 4K Le guardie arrivano, yeah, 4K Le mi dice non mi cercare, yeah, 4K Ma io penso solo a fatturare, yeah, 4K Allora sai che ti dico? Sto con la sua tipa sul divano, yeah, 4K Le guardie arrivano, yeah, 4K Le mi dice non mi cercare, yeah, 4K Ma io penso solo a fatturare, yeah, 4K L'ultima cosa, mettiti in posa Y-Generation Question mark 4K 4K Do not Grazie a tutti.